Pronto il blocco di Zetè, esce Bellinelli, vuole tirare direttamente dal passaggio di Paiola. La differenza tra i due cronometri, Cordinier contro Brahmos, lo guarda poi serve Bellinelli, classico! Bellinelli in uscita contro Boyer, 4 secondi, 3 secondi, Bellinelli finta, Bellinelli bomba, Bellinelli! All'intervallo lungo, Lundberg col possesso insistito, poi va dalle parti di Bellinelli che ci trova ancora una volta! Schiltz gli tocca il pallone da dietro Bellinelli che poi fugge in contropiede, schiacciata in solitaria! Palla dentro per Schenghelia, contro Cidam, si gira il Giorgiano, Bellinelli fa saltare l'uomo, da tre punti! Prova ad attaccare, blocco di Schenghelia, Hackett va a cambiare lato, attacca il recupero Bellinelli, uno contro uno, va sull'esitation, si appoggia! Kendrick Ray, Lundberg, prova a scappare adesso Bologna, 5'47! Per Tortona, che in dome, Severini, tutti e tre contemporaneamente sul parche, con Severini da numero 3, lui che prova a difendere su Bellinelli! In finale e in semifinale, vedremo se lo farà anche contro una squadra che sicuramente è più stazzata come Milano rispetto a Brindisi e a Tortona! Gora Camara, arriva il consegnato per proprio Paiola, quindi Bellinelli! Dice no, Hackett per Bellinelli, prova ad andare fino in fondo, assorbe il contatto Marco Bellinelli! In arrivo, in questo primo tempo, poi sarà intervallo, Bellinelli uscendo dai blocchi, riceve da Lundberg! Con questi uno contro uno, i difensori di Milano, Hackett, la finta di Bellinelli che esce e tira immediatamente! Tornato già in team, invece per la Virtus, insieme a Ipp e Lundberg, accoppiato a Della Valle, uscita di Bellinelli, piede a posto e tiro! Di Cordinier, Schenghelia, consegnato per Bellinelli che tira un'agrobazia! Offensiva di Milano, Bellinelli prende posizione contro Billy Veron, situazione di post-bust, fade away di Bellinelli! Bellinelli! ...so con l'errore di Schenke sotto canestro, uscita di Bellinelli con ricezione, tiro fuori il filibro, è un bago! Lundberg, traccia verticale per Hackett, c'è il movimento di Bellinelli che arriva ancora una volta, prende e spara Marco! Più 7, Brescia, paleggia Daniel Hackett contro Nicolic, Schenghelia, consegnato per Bellinelli che si alza! Con la tripla di Brooks, giocare punto per punto, è l'unica possibilità per l'Umano Reier, di grandissima giocata! Mattia Udom, arriva anche l'aiuto di Eckens, prova a ributtarla fuori, Michi lo fa per Magnion, grande palla per innescare Bellinelli! Bibi Liga su Bibi che riceve solo adesso, il taglio di Bellinelli!